Si è svolta ieri una camminata molto particolare dal titolo Un sentiero per tutti. In cosa consiste questa particolarità? Questo è un progetto che il CAI sta portando avanti da circa un anno che ha l'obiettivo di rendere percorribili a tutti, anche ai disabili, i sentieri intorno a noi. Abbiamo scelto una zona che va da Campiglia al telegrafo Bramapane, Sella la Croce e con la collaborazione del Consorzio del Cigno, del Comune della Spezia e della Fondazione Casso di Risparmio siamo riusciti ad avere una carrozzina particolare per andare su questi sentieri. Contemporaneamente noi come CAI abbiamo fatto un lavoro di messa a punto del sentiere in modo che tutte le carrozzine, anche quelle normali, possano andare su alcuni di questi sentieri. Invece in altri sentieri ci può andare soltanto la Jolette, che è una carrozzina particolare che riesce a camminare praticamente, cioè a portare l'handicappato anche in una zona difficile da raggiungere con i mezzi soliti dei disabili. Presente oltre la Jolette anche i cavalli, perché anche i cavalli sono importanti per il recupero delle persone o anche per l'aiuto delle persone diversamente abili. Certo, all'interno delle attività assistite che noi svolgiamo normalmente da noi in maneggio abbiamo pensato di collegarci con il CAI e approfittarne per portare i ragazzi anche all'esterno quindi a visitare quelli che sono i sentieri e le cinque terre, dando la possibilità in questo caso anche a chi non può camminare, di visitare posti stupendi e panorami stupendi. Poi si può lavorare sia con ragazzi con problemi psichiatrici oppure con chi ha problemi proprio motori. Ma sarà possibile continuare con questa progettualità? Ci sono in vista altre nuove uscite? Stiamo progettando delle nuove uscite su alcuni sentieri insieme ai ragazzi del CAI è possibile tramite il maneggio uscire e organizzarci per altre uscite su questi sentieri qui che abbiamo già studiato e preparato. Come prossimi progetti noi abbiamo un progetto di fare un'escursione sempre con la Jolette nel Parco delle Alpi Appuane esattamente a Pruno il 23 di giugno. Questo perché? Perché ieri sono venuti alcune guide del Parco delle Alpi Appuane portando una Jolette qui alla Spezia.